Gallo Mirello diceva a Codè, non sono il più bello, ma canto per te. Un galletto che tutte le mattine cantava e svegliava tutti presto, apri il pollaio per poter montare sulle galline. Poi, dato che le galline erano settanta, a un certo punto gli venia l'abbassamento di voce, finché si etava e non cantava più. «Tonino, il contadino, dai dai, lo dette a un livornese, che lo mandò a cantà per i turisti sulle navi da crociera. Ma anche lì trovaron da ridire, perché quando il traghetto si fermava a mezzo al mare per il corso di pesca ai croceristi, Mirello che cantava gli scacciava tutti i pesci. Così fu rilasciata a terra. E se non era per il sindaco, che proprio lì passò quella mattina, Mirello era ancora a pensare alla sua carriera asciupata. Fu messo a cantare l'ore della torre del campanile all'attracco dei pescatori al molo legnaio. Ma durò un po' anche lì, perché dava noia cani che ogni volta che Mirello cantava abbaiavano e ululavano tanto da rendere tesa ogni operazione di scarico del pesce da pescherecci. Così il poronardone, l'amico di Tonino, ebbe a riprendere la via della restituzione del galletto, quale ultima alternativa alla inevitabile soppressione in forma commensale. Fu quindi rimesso in libertà proprio davanti al suo vecchio pollaio, dove nell'aia c'era la sua codè con tutte le altre 69 galline. Rossella, gambacce, coda lunga, paglierina, crestaccia, la beccola, la cecca, la sciacciona, ecc. Quando videro Mirello cominciarono subito a coccodargli intorno e lui drizzò subito il collo e la cresta, orgoglioso di sentirsi ancora il gallo riconosciuto del pollaio. Il ritorno di Mirello fu talmente sentito che ogni gallina o vaiola da quel giorno fece le uova con due tuorli. Tutt'oggi queste uova sono ricordate in tutto il mondo come le tonine pontaderesi. Du pallend un chiaro genuino, un derguscio protette, un pollaio contadino. E Gallo Mirello cantava a codè, non sono il più bello, ma canto per te. Si può cantar... Si può cantar... ... si può cantare